Il corso di attività fisica adattata accoglie persone che hanno problematiche degenerative e qui avevamo Parkinson, astenosi, algie varie, artrosi, problematiche cardiache e circolatorie. Queste persone lavorano con me, alcune da diversi anni, altre da pochissimo. Facciamo danzaterapia, cioè cerchiamo di liberare il corpo trovando delle modalità più libere possibili, espressive, divertenti, che diano soddisfazione, che privilegiano il contatto, come avete visto, la respirazione, il sentirsi in gruppo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voglio dire che loro sono meravigliosi. Non è mai successo in questi oltre dieci anni che io lavoro con l'attività fisica adattata, con persone con problematiche anche importanti, tipo ictus e altre malattie degenerative, che sono meravigliosi e nessuno di loro mai una volta ha detto, ma che stiamo a fare? Cioè nessuno ha mai dato un giudizio, ha mai avuto un pregiudizio. All'interno di questi incontri io sono completamente libera di fare proposti a loro e loro sono completamente liberi di seguirle o non seguirle e li seguono sempre tutti. Grazie.